Ciao a tutti, buonasera, siamo qui giunti ai giardini di Margherita, vediamo questi bambini lungo, il primo non ha toccato il ferro per misteriosi motivi, ma il ferro non c'è, è proprio amore per il gioco, questo bambino ha un futuro, crossover, va, mamma mia, fallonni. Sì, tu, clamoroso, andrà in lunetta per il tiro libero supplementare, l'ha messa, sta chiesto, c'è un bombo canna mia. I love this game.